si può accendere la luce questa questa mi per accendere la luce quale? il metronomo allora non è che prendi prendo lui si è proprio il metronomo era tanti anni che non lo usano i primi denti perché? non usiamo il metronomo allora, prendo il metronomo di legno lo sto cercando veramente di meditare la nostra meditare è fantastico il metronomo di legno quindi devi lavorare in modo davanti a una cosa si è ben inizio di si è ben ma cosa? cosa dormite in Italia? per indormisse? io col cazzo che mi è mago no, non so era la stella di compagnia cioè tic-tac tic-tac guardate compagnia era molto compagnia un po' di tic-tac proprio che una sfera così mi è andata a me questa è sempre da solo questo è che questa è questa questa è la cross questa è la resident evil la break questa è la gestione la corte questa è la corte questa è la corte questa è la corte 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 strozza ciao ragazzi making off insomma making off chiamamolo dai non si è lasciato niente con la break è una stupenda si